Ciao a tutti e benvenuti su una nuova puntata speciale di Epitank 108 Oggi vi porteremo attraverso una classifica speciale dei top 5 videogiochi del decennio Abbiamo scelto giochi che hanno lasciato un'impronta indelebile nell'industria dei videogiochi negli ultimi due dieci anni Iniziamo con la numero 5 GTA V o Grand Theft Auto V Della Rockstar Games del 2013 Ci ha portato nella frenetica metropoli di Los Santos E ci ha offerto un mondo aperto incredibilmente dettagliato Ricordazione, umorismo e un'ampia varietà di attività da compiere GTA V ha ridefinito il genere open world E ci ha dato uno dei migliori cattivi della storia dei videogiochi Il carisma Forever Motherfucking Phoenix That's me È un gioco che ha fatto parlare di sé e ha stabilito un nuovo standard Al quarto posto c'è Valorant Valorant Un tip soprattutto tattico di Riot Games Che ha rapidamente conquistato il cuore degli appassionati di esport Che cos'è un esport? Vabbè dai Non lo facciamo Le abilità dei personaggi e la strategia sono al centro di questo gioco Valorant offre sfide competitive intense mappe ben progettate e costante aggiornamento da parte degli sviluppatori Un gioco che ha reso il team play e la strategia più importante che mai Ok andiamo al podio della nostra super mega ultra classifica con Hunt Strike Global Offensive per gli amici CSGO Il titolo di Valve sviluppato dalla casa madre Valve che è la stessa casa madre di Steam per la precisione È un pilastro degli sparatutto in prima persona e ha resistito alla prova del tempo CSGO è noto per il suo gameplay frenetico La strategia di squadra è una delle scene esport più grandi al mondo Un gioco che ha dimostrato che la semplicità può essere incredibilmente affascinante Al secondo posto troviamo Fortnite di Epic Games sviluppato nel 2017 Ha creato un fenomeno culturale con questo sparatutto Battle Royale Con la sua estetica colorata e l'evento crossover epico È davvero unico Fortnite ha un nito i giocatori di tutto il mondo con eventi in game come concerti e film Oltre a una costante evoluzione È un gioco che ha dimostrato come l'industria dei videogiochi possa essere un'esperienza culturale E ora è il momento che tutti stavamo aspettando Il nostro numero uno Siete pronti? Smuggles Run Un gioco che potrebbe non essere così noto come gli altri Ma ha un posto speciale nei nostri cuori Smuggles Run è un gioco d'azione che ha portato il divertimento off-road Veicoli personalizzabili e missioni entusiasmanti È un classico che ha catturato l'animo dei giocatori in cerca di avventura E questo conclude la nostra classifica dei top 5 videogiochi del decennio Ovviamente questa è solo una delle tantissime opinioni Quindi fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri giochi preferiti dagli ultimi 10 anni Grazie per aver guardato e continuate a seguirci su Abitank108 Per ulteriori contenuti videoludici di alta qualità Ciao 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 Grazie.